raga stiamo tornando da aver fatto un giro fuoristrada allora la strada è bianca ti fermi aldo raccatto un pezzettino grandinava non grandinava ghiaccio o pallini di ghiaccio ma palle da tennis ora speriamo che le macchine normale giù a valle non abbiano accusato questi colpi perché sennò salute e baci e poi non dite che a settembre in toscano nevica e grandi ne sembra nevicato roba da farsi roba da chiodi ce n'era uno sembrava una pallina a ping pong in terra questo è un po' 20 grammi l'ho preso prima, se lo stavo a 20 grammi mentre ti scende da Pellaria a 70 grammi all'ora ti viene in capo noi piano piano non si ritorna in giù ciao ragazzi fischia